ecco qua anche la prima sigla è finita shalom a tutti bentrovati stasera abbiamo la parashah di kedoshim e come abbiamo scritto nel titolo la lezione la vogliamo dedicare a elias enese che è sempre presente nelle lezioni è sempre presente e ci aiuta sempre a andare avanti alle nostre lezioni e mettiamo anche cedaka per favore anche a casa chiediamo a tutti di mettere qualche moneta in cedaka grazie a tutti per essere qua stasera era pochi giorni fa se non sbaglio ieri era yom tutte queste feste tutte insieme era yom azikaron il giorno della memoria della memoria dei caduti dei soldati che sono morti in guerra dei poliziotti morti quando cercavano di difendere la terra di israele tutti quelli che sono mancati per la difesa del popolo ebraico in erez israel e come ogni anno i mazikaron si ricordano queste persone e ovviamente stasera noi vogliamo ancora comunque dedicare questa lezione anche a loro stasera parleremo di argomento molto speciale perciò vorrei raccontare una storia su un soldato che ha a che fare con l'argomento che stasera noi toccheremo la storia è molto breve ma è molto intensa siamo ci sono diversi soldati israeliani insieme che sono fuori dall'argomento che stanno controllando una certa zona c'era tra questi soldati un soldato che lui si vantava tra virgolette di non essere un credente di uno che non crede a dio che non fa le mitzvot e così via stiamo parlando di soldati israeliani invece tanti dei suoi colleghi dei suoi amici erano erano osservanti benissimo questa è una premessa la storia comincia che a un certo punto di dove si trovano arriva all'improvviso un attacco nemico loro non erano pronti allora subito appena avendo che c'è un attacco cominciano a fare quello che devono fare a prendere la posizione andare a fare ognuno quello che deve fare questo soldato qua che si professava un non credente comincia a urlare con tutta la sua forza la fatidica frase è la frase che tutti conosciamo la preghiera basilare che ogni bambino conosce che noi invochiamo che ascemi unico lui ci protegge benissimo finito questo attacco tutto andato bene i ragazzi i suoi amici di questo soldato vanno da lui dicono ma tu sempre ti sei vantato che sei un non credente un ateo ma sei stato tu il primo a urlare shema israel a invocare dio ma dici cosa è successo come mai e lui dice ragazzi non chiedetemi da dove siamo usciti fuori in quel momento lì quando ho visto il pericolo la morte in faccia mi è venuto spontaneo automatico di chiamare a shem di chiedere a shem che ci aiuti ecco lui forse non sa come ha detto non chiedetemi non so da dove sia uscito mi è uscito automatico ma la risposta noi tutti la conosciamo dentro ognuno di noi come appunto stasera studieremo si trova una scintilla di hashem che anche quando sembra che questa scintilla sia spenta non sia curata non sia coltivata come un fuoco anche il fuoco più grande se non lo non lo coltivi non non le dai forza il fuoco pian piano scende si spegne a volte anche la nostra anima che è un grande fuoco ma se non viene alimentato con la forza della torà con lo studio e la preghiera con la fede in dio anche la la nostra anima che è un fuoco pian piano può spegnersi mai ma può perdere la sua lucentezza il suo vigore e sembra che si stia spegnendo ma in realtà non si spegne mai perché rimane sempre una piccola scintilla come la fiamma pilota che non si spegne mai questo è quello che hashem ci ha dato dentro di noi nella nostra anima che la nostra scintilla a volte si può abbassare ma non si spegne mai proprio questa scintilla che la nostra anima che rimane sempre accesa quando arriva il momento che anche una persona che lui pensa di essere ateo pensa di non credere pensa di non credere ma nel momento del del bisogno della verità lui sa chi chiamare lui sa chi evocare perché hashem è dentro di lui e in quel momento la sua anima divina si accende e sa richiamare il creatore del mondo dire papà nei cieli aiutami in questo momento è una cosa che tutti noi abbiamo nel nostro cuore e mai nessuno potrà mai spegnerci questa scintilla divina che noi abbiamo dentro di noi mai nessuno potrà privarci di questa presenza divina che ogni istante ci tiene in vita materialmente ma specialmente spiritualmente perciò questa storia la dichiamo a tutti i soldati che sono mancati la dichiamo a tutti i soldati che sono vivi che potranno rimanere sempre in vita che potranno sempre proteggere la terra di israele che non ci sia mai più bisogno che la terra debba seppellire giovani ragazzi per la sua protezione che possa hashem proteggere lui la terra di israele senza mai avere bisogno di avere più sacrifici umani che possa veramente la pace eterna con tutte le nazioni venire tramite la rivelazione di mashia amen che possa la loro anima veramente gioire e splendere sicuramente loro adesso chi ha dato la propria vita per un'altra persona o per la sicurezza di altre persone loro sono direttamente in ganede sono sicuramente negli alti dei cieli certo i genitori hanno pianto hanno sofferto hanno lasciato figli famiglie e genitori però chi dà la sua vita per il prossimo loro sono direttamente nel giardino dell'eden accanto ad hashem e che veramente la loro anima da lì possa splendere e illuminare i loro parenti che hanno lasciato che purtroppo possono che continuamente soffrono nonostante siano passati tanti tanti anni ok la nostra parashah si chiama kedoshim kedoshim vuol dire santi una parashah molto importante e all'inizio della parashah la torà scrive Dio scrive vai davvero hashem el moshe lemor Dio dice a Mosè parla al popolo ebraico e di loro di loro al nome mio dice hashem kedoshim ti iu chi kadosh ha ni hashem elokichem una frase molto potente che dobbiamo capire dice siate santi Dio dice agli ebrei siate santi poiché io sono santo allora tanto per cominciare bisogna capire cosa vuol dire siate santi anche nel video che abbiamo mandato fuori ieri abbiamo menzionato questo concetto che ovviamente stasera ne parleremo a lungo cosa vuol dire siate santi è una parola molto ambigua particolare santo Dio è santo Rashi il commentatore della torà spiega che santo siate santi sta vuol dire stai lontano da immoralità da promiscuità da rapporti intimi proibiti siete santi Rashi dice Dio ci chiede ad ognuno di noi state lontano da tutto quello che è promiscuità perché io odio questo grave peccato perciò se tu ti allontani da questo allora diventi per me vuol dire che tu sei santo e non vuol dire soltanto nei intimità di rapporti proibiti ma anche con la propria moglie una persona deve unirsi alla moglie nel modo giusto secondo le regole per me tutto deve essere sposato con questa donna questa donna deve andare al mikve regolarmente deve fare il bagno rituale il marito e moglie devono seguire le regole le norme della purezza familiare tutto questo dice Hashem se lo fai sei santo ok questo è quello che Rashi racconta della torà arriva il Nachmanide il Nachmanide che vuol dire il Ramban e lui invece spiega un qualcosa che siate santi secondo lui non è un'azione non è una lista di azioni da fare per essere santi secondo Nachmanide siate santi vuol dire cerca di raffinare la tua persona la tua personalità il tuo modo di essere il tuo carattere cerca di raffinare la tua spiritualità anche la tua anima sapete una persona può fare tutte le regole tutte le mitzvot e comunque non essere santo essere santo non vuol dire compi tutte le mitzvot della torà ripeto una persona può fare tutto alla lettera può non sgarrare neanche una legge della torà eppure diciamo questa persona non è un santo perché perché una persona anche se fa tutte le mitzvot magari ha un comportamento degenerato oppure fa le mitzvot tecniche le fa ma è una persona grottesca una persona arrozza non raffinata una persona arrogante perciò secondo il Ramban non è essere santi non è qualcosa di tecnico che devi fare come mettete filin mangiacasher no quello ovviamente ma essere santi nel specifico vuol dire si abbi un comportamento santo cerca di lavorare sulla tua personalità di essere sempre una persona adeguata una persona amata infatti c'è scritto nelle massime nei padri che stiamo leggendo questa settimana tra Pesach e Shavuot diciamo se c'è una persona che è amato apprezzato benvoluto dalle persone allora anche Dio ama questa persona perché se qui in basso lui è amato dalle persone che fa dell'opera di bene che si comporta bene che ha un carattere docile che ha una bella personalità non è rozzo non è superbo non fa cose non ha un comportamento non idoneo anche se fa tutte le mitzvot ma se fa un comportamento non idoneo non puoi chiamarsi santo perciò è un qualcosa di comportamento di disciplina di sensibilità infatti nella chassidut c'è scritto kadesh atzmecha be mutarlach santifica te stesso sii santo kadesh kadosh sii santo non soltanto seguendo le regole di ciò che è permesso e ciò che è vietato vai anche al di là ovvero santifica te stesso anche con ciò che ti è permesso cosa vuol dire la chassidim ci dice si dice quello che è vietato è vietato ma quello che è permesso non per forza devi farlo cosa vuol dire questo se c'è un cibo vietato non se ne parla questo cibo non è kashar non si parla ma il punto è anche se questo cibo è permesso è un cibo kashar devi per forza mangiarlo devi per forza sempre pensare al tuo fisico a mangiare a riempirti magari una cosa che non è strettamente necessaria non è vitale un dolce o qualcosa di particolare la chassidim spiega sempre santifica te stesso vuol dire anche ciò che è permesso dalla Torah super kashar o super permesso quello che sia l'azione santificati non è detto che tu per forza debba fare tutto ciò che è permesso perché questo è un modo di rettificare la persona il nostro carattere il nostro modo di essere uno può mangiare cento per cento kashar ma se si ingozza e mangia tanto in modo spropositato mangia anche in modo goffo in un modo allora nessuno può dire che sta facendo un'infrazione ma è bello vedere una persona che si ingozza che mangia in un modo grottesco che mangia tanto uno po' l'altro in un modo brutto no ecco proprio in quelle cose di questo carattere la Torah ti dice si santo santificati anche con qualcosa che è permesso diventa una persona brillante una persona piacevole che tutti ti vogliano bene perché se non hai questo puoi fare tutte le mitzvot della Torah ma ti manca l'anima delle azioni il corpo delle azioni ce le hai ma devi avere anche l'anima di ogni azione buona che fai delle mitzvot che tu fai ma cerchiamo di capire adesso la seconda parte del passo la prima parte dice siate santi ok abbiamo capito cosa vuol dire più o meno siate santi ma cosa vuol dire siate santi poiché io sono santo allora se Hashem è santo vuol dire che anche noi automaticamente siamo santi come lui come può Hashem paragonare se stesso a noi che noi dobbiamo essere santi poiché lui è santo come dire un esempio stupido Bill Gates o chiunque sia la persona più ricca del mondo dice siate ricchi poiché io sono ricco grazie Bill Gates è Bill Gates vuol dire che se lui lo è dobbiamo essere ricchi come lui sembra quasi che sia un paragone veramente troppo distante dalla realtà dice il Midrash dice il Midrash su questa frase che Dio dice siate santi poiché lo sono anch'io dice il Midrash una cosa interessante Yahol Kamoni forse tu umano puoi pensare di essere santo come me e risponde Dio no sappi che la mia santità è al di sopra della vostra santità sappi che tu non puoi essere mai come me perché la mia santità sarà sempre superiore alla tua perché tu sei un umano ma la domanda che qui sorge su questo Midrash è chi mai può dubitare per un attimo può pensare neanche lontanamente che lui può essere più santo di Dio a tal punto che Dio deve dire nel Midrash sappi che la mia santità è più alta della tua ma non c'è discussione qua è ovvio anzi noi vogliamo capire il contrario allora su questa frase qua ci sono due spiegazioni due modi di capire questo Midrash che sono opposti uno all'altro bellissimo vedere come nella Torah ci possono essere anche delle spiegazioni dei pensieri opposti uno all'altro comunque essere entrambe giuste questo nella Torah succede tutto quello che si dice della Torah se è parla di Torah è giusto anche quando sono in contrasto uno con l'altro perché la Torah ha 70 modi di vedere la Torah ci sono diverse sfaccettature della Torah perciò la si può capire e intraprendere in diverse lati in diversi modi in diversi livelli e così via perciò la Torah non è mai una ma si può interpretare capire in diversi livelli per quello che questo Midrash così particolare lo possiamo capire in due modi però che sono opposti uno all'altro questa è una lezione veramente interessante e vi invito a seguirmi bene ok questo Midrash ha due spiegazioni la prima spiegazione dice una persona chi di noi non vuole essere vicino a Dio fare le mitzvot essere fedele al massimo alla volontà di Dio essere quello che si chiama santo giusto però cosa succede cosa succede un giorno questa persona dà al massimo di se stesso e dice wow oggi ho fatto una bella preghiera ho studiato mi sono come si dice mi sono comportato bene mi sono elevato spiritualmente ah fantastico tocco il cielo con un dito oggi veramente ho avuto un'elevazione spirituale il giorno dopo anzi per meglio dire un'ora dopo un attimo dopo uscito dal tempio cosa fa la stessa persona che al tempio ha avuto una grande elevazione esce dal tempio magari comincia a comportarsi male a trasgredire a scendere di livello a dire piccole bugie a ingannare a fare cose che sono proibite dalla Torah la frase che dice sappi che la mia spiritualità è più alta della tua Hashem cosa sta facendo cerca di confortarci non sta dicendo tu non puoi arrivare a me dice cerca di confortarci guarda che tu non potrai mai arrivare al livello divino perciò si felice se almeno hai pregato bene anche se dopo magari sei uscito dal tempio e ti sei comportato male almeno abbi piacere di quel attimo che hai fatto qualcosa di buono dice Hashem ricordati che sei un umano ed è normale per voi umani essere limitati ed è sbagliare perché lo sbaglio porta alla crescita dice Hashem solo io sono perfetto non sentirti frustrato o che hai fatto qualcosa che è irriparabile tu sei un umano non potrai mai diventare come me perciò sii felice di ogni passo che sei riuscito ad acquisire in Torah e Mitzvot anche se dopo hai sbagliato vorrei aprire una parentesi che concerne a questo concetto è perché perché succede come è possibile che una persona fa una Mitzvah prega e ci tiene tanto e un attimo dopo può essere che lui vada a fare un peccato esce dal tempio e va a fare un peccato come è possibile una cosa del genere la risposta la possiamo capire soltanto con quello che il Tania ci insegna il Tania ci insegna che noi in realtà non abbiamo un'anima ma noi abbiamo due anime un'anima è quella materiale quella che si chiama la nefesh habbehamid l'anima animalesca quest'anima fa vivere il corpo fa girare fa pompare il cuore fa battere il cuore ci dà vita materiale il sangue gira è l'anima che dà l'elettricità che dà la vita alle persone ok poi dice il Tania ognuno di noi c'è una seconda anima che quella è l'anima divina nefesh hailokit il compito di questa anima è di rivelare nella parte nel corpo umano nella persona un contrasto col suo lato animalesco e di indurre la persona a fare cose divine perciò quando facciamo una mitzvah un'opera di bene una preghiera in quel momento l'anima divina sta guidando la nostra persona al contrario quando facciamo una mancanza o un peccato chiamiamolo così è l'animo animalesco che sta avendo avvento su di noi ecco questa è l'unica spiegazione plausibile di come è possibile che una persona abbia queste due personalità perché non è un'anima perché se fosse un'anima che noi avessimo soltanto un'anima allora sarebbe preoccupante se preghi e poi vai a rubare invece la risposta è essendo che tu hai due anime dipende da chi tu persona lasci impadronirsi del tuo corpo ecco noi dobbiamo aiutare la nostra anima divina a prendere diciamo il l'avvento la guida del nostro corpo e dobbiamo aiutare noi stessi ad ascoltare soltanto l'anima per fare soltanto cose negative questa era una parentesi che mi sembrava doveroso da chiarire allora qua dice Hashem tranquillo non sei un angelo sbagliare fa parte dell'umano l'importante è che dopo uno sbaglio cerchi di migliorare perciò non sentirti frustrato non potrai arrivare alla santità che io ho ok questa è una spiegazione semplice e chiara la seconda interpretazione che va molto più in profondità ovviamente è una spiegazione chassidica adesso quando noi prima abbiamo detto abbiamo detto che Dio dice si santo perché io lo sono allora il Midrash cosa chiede cosa tu forse puoi essere come me Yahol Camoni dice Dio puoi essere forse come me allora secondo questa interpretazione questa non è un punto di domanda non è che Dio dice cosa vuoi essere come me è ovvio che io sono superiore a te no la chassidica cambia e dice un'altra cosa Yahol Camoni puoi essere come me non è un punto di domanda bensì è un'affermazione di Dio Dio sta dicendo sappi che tu Yahol puoi essere come me nei testi sacri nella Torah e nel Talmud non ci sono le vocali i puntini i punti esclamativi i punti di domanda punto a capo è tutto lettere 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 perciò è possibile nell'ebraico dei libri sacri leggere una stessa parola in due modi diversi o leggere una frase spostando una virgola sappiamo tutti che se tu sposti una virgola puoi dare tutt'altra spiegazione tutt'altro modo di come comprendere una frase anche in italiano ma specialmente in ebraico perciò essendo che nei testi sacri non ci sono punteggiature punti di domanda allora qua è non un punto di domanda come nel primo caso ma è un punto esclamativo sappi che tu puoi essere come me perciò appunto interpretiamo questa frase in un modo opposto come abbiamo detto dice tu umano puoi creare dei mondi così come io creo dei mondi tramite la tua hitor rerut il tuo risveglio la tua ispirazione la tua voglia di crescere di salire tu puoi creare un mondo dice Hashem io creo dei mondi anche tu ovviamente non si intende un mondo come io creo ma ogni volta che lo facciamo ha un'influenza nel mondo perciò dice con ciò che tu generi di positivo con la tua foga di fare la tua voglia di crescere tu puoi creare dei mondi come lo creo io ma la domanda è come va bene abbiamo capito che possiamo essere così come Dio è santo così come Dio può fare tutto dice anche tu puoi farlo ma perché come dice il Talmud la risposta sta nella frase poiché io sono santo dice poiché io sono santo tu anche puoi essere santo perché e qua sono diverse spiegazioni ascoltate bene dice la mia santità addirittura deriva dalla vostra santità questo è un concetto di cabalà pura cabalà che può essere un po' difficile da capire cercherò di spiegarlo brevemente e semplicemente però ci sono fiumi fiumi di inchiostro versate su questo concetto che abbiamo che sto spiegando adesso che dice sappiate che la mia santità dall'alto deriva dalla vostra santità cioè se io sono santo dice Dio è grazie a quanto voi siete santi a quanto voi vi eleviate cosa vuol dire questo vuol dire così noi con le nostre azioni sosteniamo e diamo vitalità a Dio ripeto non è una cosa semplice da capire ci sono tanti testi che spiegano questo il punto principale che cos'è che Hashem ha voluto Hashem ha voluto che noi abbiamo la forza di poter dare a lui vitalità superiorità così come anche il contrario così se una persona non fa la Torah e le Mitzvot può anche abbassare il livello di Dio perciò noi con le nostre azioni siamo in grado di influenzare Dio e la sua santità nel bene o purtroppo anche nel male quando noi facciamo qualcosa di brutto noi abbassiamo Dio spiritualmente perché siamo connessi perché Dio ripeto è Dio che ha voluto creare questa situazione che lui debba dipendere dalle nostre azioni perché bellissimo perché Hashem in questo modo vuole valorizzare e farci capire quanto è importante ogni minima nostra azione ogni minimo pensiero ogni minima parola dice Hashem sappi che io dipendo da te mi metto nelle tue mani se tu fai la Torah di Mitzvot mi elevi il mondo diventa più spirituale al contrario se tu sbagli mi abbassi anche a me oltre che a rovinare e a portare squilibrio nel mondo questo Dio dice siamo nelle mani tue umano e questo ci fa sentire responsabili e ci fa gioire di quanto Hashem ha valore dà valore alla nostra persona e a tutto quello che facciamo sapete quando c'è una persona di poco valore allora qualsiasi cosa lui dica non facciamo conto perché è una persona che non ha valore un bambino per esempio un bambino piccolo di 2-3 anni siamo lì a dare importanza a tutto quello che dice e fa è un bambino anche se dice delle cose brutte anche se piange anche se picchia è un bambino non diamo tanta importanza ecco al contrario qui Hashem non ci vede come persone piccole di poca importanza al contrario agli occhi suoi ogni umano è così importante che addirittura lui decide di mettere le sue sorti in mano a chi? a noi umani è una cosa proprio da da rabbrividire perciò dice la mia santità qui in alto deriva da come voi vi santificate lì giù in basso una spiegazione ancora tutti possono essere santi come Hashem perché noi abbiamo anima divina abbiamo studiato tante volte quando Adamo è stato creato Adamo Dio ha preso della terra ha formato il suo corpo ma questo corpo non era ancora vivo c'è scritto che Dio nel Bereshit ha soffiato nelle sue narici ha soffiato ed è entrata dentro l'anima le due anime l'anima animalesca e l'anima divina l'anima che dà elettricità al corpo e l'anima divina allora quando Dio ha soffiato dentro Adamo l'anima cosa vuol dire cos'è l'anima è un qualcosa che viene da Dio ha soffiato da dentro di sé per modo di dire se lo vediamo in un modo umano ha soffiato un qualcosa ed è entrato nel corpo di Adamo infatti Adamo si è svegliato quando il soffio divino è entrato in lui cosa ha soffiato Dio in lui anima cos'è anima è una parte un pezzo se vogliamo chiamarlo una parte di Dio che penetra che entra in Adamo e ovviamente tutto questo processo si ripete con ogni bambino che nasce ogni persona che nasce ha dentro di sé spirito divino anima di Hashem quando nasce ha l'anima divina adesso cosa vuol dire che abbiamo un'anima divina chelek e loka un pezzo di Hashem una parte di Hashem come se noi prendiamo una torta la dividiamo a pezzetti per modo di dire ad ognuno di noi Dio ha dato una parte di se stesso ha regalato un pezzo di sé a se stesso ora con questa spiegazione possiamo capire perché noi possiamo essere santi come Hashem perché Dio dice siete santi perché lo sono anch'io allora sì che adesso ha una logica perché visto che siamo tutt'uno con Dio perché Dio essendo dentro di noi anche una piccola parte di sé una piccola parte è uguale come a tutto no un pezzo di qualcosa è tutto allora anche se Dio ha messo una parte di sé in noi siamo divini in tutto siamo connessi e siamo tutt'uno con Hashem perché perché siamo abbiamo la sua anima dentro di noi una parte di lui dentro di noi che ci connette con lui in eterno allora essendo che lui è dentro di noi questa realtà alla fine emerge sempre anche se spesso questa realtà è nascosta è celata perché abbiamo dei comportamenti non giusti uno dice ma ma di cosa stai parlando ma di cosa stai parlando io divino io faccio dei peccati io sbaglio come fai a chiamarmi divino è vero è vero che noi sbagliamo divino è la nostra essenza l'anima che ha scermato dentro di noi è la nostra essenza è vero che a volte il nostro comportamento esteriore cela il Dio che c'è in noi lo blocca non lo blocca ma lo è oscura ma non vuol dire che Dio non è più dentro di noi è dentro di noi ma è oscurato è al buio cosa succede? si spera che questa divinità che c'è dentro di noi che alla fin fine venga questa realtà venga a galla perché pian piano più una persona va avanti più si è vicina più si rivela sempre di più la divinità la potenzialità che ognuno di noi ha dentro se stesso basta che ognuno decida di accendere la sua anima e tutto il buio sparisce ma se andiamo ancora più in profondità leggiamo così stiamo dando diverse spiegazioni una più bella dell'altra la prima domanda forse tu puoi essere santo come me dice il Talmud io sono santo Talmud l'Omar in ebraico viene fuori facile ma spiegano in italiano è un gioco di parole Talmud l'Omar vuol dire il Talmud risponde a questa domanda così Talmud l'Omar dice anziché leggere Talmud l'Omar leggi Talmid Tilmad l'Omar gira due lettere cosa vuol dire Tilmad l'Omar impara a dire sappi che su te stesso impara a dire io sono santo cosa vuol dire questo qua lo spiego proprio semplicemente senza girare intorno alla grammatica qua i nostri maestri ci stanno dicendo ognuno di noi deve imparare a dire io sono santo come un mantra deve diventare io sono santo io sono elevato io sono divino a sceme dentro di me impara a dire impara a vedere la tua realtà la vera realtà non è la parte animalesca le brutte azioni esteriori la parte vera di te che cos'è? che sei divino che a sceme dentro di te perciò tutto è nella nostra immaginazione nella nostra convinzione quello che tu ti convinci che sei sei sentirsi negativi sentirsi peccatori invidiosi distaccati da sceme tutte le varie brutte cose che una persona può sentire credere e vedere su se stesso cosa succede? se sei convinto di essere tutte queste cose negative un fallito un perdente questi tuoi pensieri influenzeranno la tua vita perché tu immagini che sei così ti 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 난 ti ti che ti 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 azione ti fa diventare la tua realtà e allora questo poi condizionerà la tua vita invece nella vita bisogna imparare a dire io sono santo sai perché sono santo perché Hashem lo è e se lui è dentro di me allora lo sono anch'io siamo collegati se Dio è santo e lui dentro di me lo sono anch'io sono santo posso capire una persona che vuole degradare se stesso offendere se stesso declassare la sua persona posso capire ma perché offendere Dio quando tu declassi offendi te stesso vedendoti come un peccatore come una persona alienata tu non stai offendendo soltanto te stesso stai direttamente offendendo anche Dio prima di tutto perché Dio è il tuo creatore in secondo luogo perché Dio è dentro di te perché se tu sei un bugiardo dici di essere un bugiardo tu stai dicendo a Dio Dio tu sei un bugiardo se ti vedi come un peccatore tu stai dicendo Dio tu sei un peccatore non sto esagerando quello che noi siamo Dio Dio è dentro di noi allora capisco una persona non ama se stesso ma perché per non amor proprio devi mancare di fiducia e di grandezza di vedere Dio con gli occhi giusti perché buttandoti giù butti giù anche Dio perché se tu sbagli lui sbaglia pensateci è un discorso molto profondo ma è molto oggi giorno succede molto di questo c'è un senso di cosa si sente in colpa mi sento in colpa perché ho peccato ho fatto questo quest'altro la casa lui spiega così c'è un senso di colpa che può essere sano e c'è un senso di colpa che può essere totalmente distruttivo di norma nell'ebraismo il senso di colpa non è ben visto è distruttivo però a volte c'è cos'è il senso di colpa sano produttivo quando una persona vede che ha fatto uno sbaglio si accorge di quello che lui ha fatto si sente male che ha sbagliato però quel sentirsi male non è finalizzato a sentirsi male a sentirsi in colpa ha un così c'è ha un rimorso diciamo è pentito di quello che ha fatto però se questo pentimento rimorso questo sentimento lo porta da questo momento in poi a rettificare lo sbaglio che ha fatto a chiedere scusa a fare quello che deve fare per aggiustare la situazione allora quel sentimento che lui ha nel cuore di tristezza di rammarico di anche molte volte appunto di sentirsi in colpa però se è destinato a farlo crescere a migliorare allora quello è un senso sano è un qualcosa di produttivo che ti porta a riparare e si chiama crescita si chiama teshuva molte volte la teshuva può venire da un senso di mi sento in colpa però se questo senso di colpa è un qualcosa un sentimento totalmente ed esclusivamente negativo che ti butta giù e non ti fa più avere voglia di risalire e diventa una cosa tossica una cosa malata dice la Torah impara a dire su te stesso io sono santo non bisogna guardare tutta la vita soltanto i nostri difetti e le nostre mancanze siamo umani è vero la prima cosa che abbiamo detto gli umani sbagliano ma ogni persona deve cominciare a imparare a guardare dentro a se stesso e dire io sono divino perché Dio si trova dentro di me c'è poco da fare non ho scelta non l'ho scelto io non è una cosa che io mi monto la testa e dico eh sono divino è una cosa dentro di me ciò non toglie ciò non toglie che se io sono divino io sono supremo e sono santo kadosh come Dio ciò non toglie che faccio degli sbagli ciò non toglie che a volte faccio dei peccati ciò non toglie che a volte faccio del male a me stesso del male al prossimo non vuol dire che che una persona se è santo vuol dire non fa sbagli è perfetto quello è soltanto Dio perciò tutto ciò non è perché non siamo santi perciò come è possibile che una persona possa pensare arrivare a un livello così basso di autostima mancanza di autostima e di non e di non vedere luce in se stesso perché tutto questo succede non perché non siamo santi perché noi non capiamo quanto in realtà siamo santi quanto siamo divini ci auto convinciamo di essere persone cattive attenzione non dobbiamo neanche peccare di arroganza di pensare che noi siamo onnipotenti è giusto che ogni persona sappia e capisca dove lui veramente si trova la cosa che qua impariamo come abbiamo studiato poche settimane fa a pesa che le ebrei dovevano scappare ricordate dalla voce del faraone che li rincorreva che voleva prenderli dominarli tenerli in ostaggio nonostante loro erano lontani ecco questa voce del farone è un qualcosa che sempre nella nostra vita il farone ci vuole bloccare c'è questa voce dentro di noi da cui noi dobbiamo scappare che vuole questa voce soffocare la nostra persona ci vuole demolari demoralizzare e facci sentire che siamo degli incapaci per questo gli esserà quello che vuole facci sentire male allora non dobbiamo capire che noi siamo un pezzo di hashem e perciò visto che hashem è dentro di noi abbiamo la forza di reagire ricordiamoci bene le nostre insicurezze non sono ciò non sono la realtà dei fatti io sono insicuro di me stesso non è detto le nostre insicurezze non per forza sono la verità le storie che ci raccontiamo a noi stessi non corrispondono alla realtà che io sono cattivo sono negativo no sono soltanto delle illusioni che noi abbiamo nella nostra mente noi dobbiamo ricordare che sono siamo divini e hashem opera in questo mondo tramite me quando io metto tefilino ogni giorno che un angelo non può fare allora dio sta tramite me operando nel mondo portando luce delle mie preghiere delle candele di shabbat delle donne e ogni mitzvah che noi facciamo dio in quel momento sta operando nel mondo tramite noi e ci ha creati apposta per portare questa luce nel mondo perché noi siamo l'estensione il braccio lungo di hashem perché lui è dentro di noi e tramite noi il dio che c'è in noi lui riesce a portare la luce di bene e di amore che c'è che ci deve essere nel mondo voglio concludere la lezione con una storia questa storia è molto toccante è molto particolare e proprio racchiude tutto quello che stasera stiamo studiando siamo il giorno di kippur più di cento anni fa siamo in russia un tempio di chassidim tutte persone che studiano che pregano in quel momento sapete tutti questi vestiti bianchi tutti molto presi dalla preghiera a un certo punto entrano nel tempio otto soldati russi però senza armi questi soldati entrano nel tempio e si siedono ascoltano guardano potete immaginare in quei periodi come si sentivano gli ebrei a vedere otto soldati russi che entrano nel loro tempio erano tutti disturbati erano tutti inquietati erano spaventati cosa ci fanno otto soldati russi nel nostro tempio a un certo punto qualcuno si è fatto coraggio è andato da loro è detto chi siete voi come mai siete qua con noi oggi questo è un tempio ebraico è il giorno di kippur allora rispondono noi siamo ebrei erano i famosi cantonisti in breve i cantonisti che erano all'epoca l'esercito russo rapiva bambini di piccoli età 7 8 9 10 anni li rapivano per arruolarli all'esercito russo e questi bambini qua non tornavano mai più a casa erano rapiti proprio poi pian piano dimenticavano la loro storia la loro famiglia da piccoli crescevano nell'esercito e dimenticavano la loro storia cantonisti questi otto ragazzi erano stati rapiti da bambini e hanno detto noi siamo cantonisti però sappiamo che oggi è kippur sappiamo che siamo ebrei sappiamo che oggi è un giorno speciale perciò siamo venuti qui al tempio anche se non sappiamo niente non sappiamo pregare però siamo qua vogliamo essere presente in questo giorno così importante per la nostra religione quando il rabbino ha sentito queste parole di chi sono e la loro storia il rabbino ha fermato le preghiere e ha detto ascoltate la storia che vi voglio raccontare e lui racconta di suo nonno che a sua volta anche lui era rabbino e dice così il nonno mi ha raccontato questa storia c'era una persona una storia vera che aveva un pavone il pavone è uno degli uccelli più belli che ci sono al mondo il pavone sapete fa la ruota no? apre tutte le sue penne colorate le fa vedere il pavone è capace di cantare emette musica canta era un uccello veramente bellissimo e lui era fiero di questo uccello che lui aveva il suo vicino di casa era geloso di questo pavone e tanto lo desiderava un bel giorno il vicino di casa si intrufola in casa dove c'è il pavone prende il pavone lo nasconde in un sacco di uta e lo porta via in casa sua lo ruba lo porta in casa sua però lo porta giù in cantina che nessuno lo veda lo tiene lì al buio che nessuno lo veda e per non farlo sentire che lui canta gli ha toccato le corde vocali ha strappato le corde vocali affinché lui non canti col passare il tempo visto che questa cantina era tutta buia appunto per nasconderlo il pavone aveva perso tutte le sue qualità non cantava più perché non aveva più le corde vocali non faceva più la ruota perché era tutto buio era appassito come era proprio apatico aveva perso la sua vitalità perciò questa persona che l'ha rubato vedeva che non aveva più un senso come prima tenerlo in casa e acudirlo tanto non canta più non fa più la ruota non fa niente perciò cosa ha fatto? ha pensato me lo mangio lui comunque era una persona anche se ha rubato era una persona che mangiava comunque casher è un uccello per essere mangiato deve essere casher e deve essere fatta la shechita la macellazione il rituale ebraico per poter mangiare l'animale all'epoca come funzionava? all'epoca ognuno aveva le sue galline nell'orto allora non c'era un macellaio dove si comprava la carne tutti avevano nell'orto animali qua e là si andava dal shokhet da colui che fa il taglio rituale e ognuno portava il suo pollo il rabbino faceva la shechita e dava il pollo così era una volta e c'era la fila per strada andavano nel giardino nel rabbino e tutti aspettavano il loro turno lui dice vado anch'io la rabbina me lo faccia fare la shechita e me lo mangio però ovviamente se io vado così com'è con le pinne con le sue pinne riconosceranno che ho rubato allora cosa fa? prende il pavone toglie tutte le sue pinne che non venga riconosciuto perciò lui va con un animale totalmente depennato benissimo va in fila nel giardino del rabbino per aspettare il suo turno che il rabbino possa fare la shechita casualità vuole fatalità vuole che in quel momento ci sia anche chi? il padrone del pavone il vero padrone che anche lui era venuto con dei polli da tagliare il padrone incontra gli occhi del pavone e lo riconosce e comincia a dire ma questo è il mio pavone tu me l'hai rubato sei stato tu dice cosa? ma guarda questo pavone questo animale non canta neanche non ha mai cantato in vita sua dove sono le sue penne? come fai a dire che il tuo pavone? il tuo era bellissimo cantava questo non ha niente di questo quello che tu dici non è tuo dice no 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 io conosco i suoi occhi per anni era con me questo è il mio pavone trascina la persona dal rabbino non dal shokhet dal rabbino della città il nonno del nostro rabbino che sta raccontando adesso e dice rabbi io sono sicuro che questo è il mio pavone e lui me l'ha rubato il rabbino che era molto intelligente dice così facciamo una prova portate questo volatile in piazza e lasciatelo da solo lasciatelo libero lì dove lui andrà la casa dove lui andrà sarà ci dimostrerà chi è il suo padrone lo lasciano libero lui va e dopo poco tempo arriva nella sua casa nella sua vera casa prima che fosse stato rapito allora tutti dicono ah aveva ragione questo è il suo uccello in questo momento il rabbino Akhipur che sta raccontando questa storia dice al pubblico lì presente dice vedete questo uccello è stato depennato è stato ne hanno tolto le corde vocali esteriormente è irriconoscibile però appena l'hanno lasciato libero è tornato a casa sua questi otto ragazzi che sono stati rapiti da bambini piccoli cresciuti come dei russi non nella cultura ebraica però vedete appena l'hanno rilasciati liberi sono tornati a casa sono qui oggi con noi a festeggiare a celebrare Khipur anche se loro non sanno pregare non sanno cantare e non sanno fare niente di tutto ciò però la loro anima sapeva dove tornare sapeva dove è il tempio sapeva dove è casa e questo è l'anima di ogni iudi abbiamo passato tante storie negative da Abramo il primo ebreo fino ad oggi ci hanno massacrati uccisi decimati inseguiti fino ad oggi eppure appena ci lasciano un attimo di libertà noi sappiamo dov'è casa nostra abbiamo giustamente come dana ci scrive abbiamo un'anima divina che non si spegne mai a volte un fuoco che si abbassa ma non si spegne mai sappiamo sempre dov'è casa e questo è quello che stasera abbiamo studiato che siate santi poiché io sono santo non è fantascienza non è chiedere un qualcosa al di sopra delle nostre capacità al contrario Dio sta cercando di spiegarci chi siete io chiedo a voi di essere santi perché io lo sono perché io sono dentro di voi sono tutt'uno con voi voi siete la mia estensione perciò quando vi chiedo siate santi so quello che sto chiedendo imparate a guardarvi dice Dio a noi imparate a guardarvi con i miei occhi con gli occhi di amore con occhi di consapevolezza del vostro vero valore possa benedirci a tutti quanti di arrivare veramente in vetta in cima in alto in alto che noi possiamo veramente tutti noi percepire sentire la grandezza l'importanza la responsabilità che noi che Dio ci ha dato e possa Hashem veramente benedirci di poter ricevere veramente la ghiulà la redenzione finale del Giacachem fino ad arrivare alla redenzione tramite Mashiach Amen presto ai giorni nostri chiediamo a tutti per favore di condividere questa lezione grazie a tutti e sabbat salam grazie a tutti